allora ciao a tutti sono sempre qui l'introll con quello sfaticato di lario ciao a tutti e sono niente, faccio uno scout veloce perché è solo con Mobizen senza senza OBS eccetera come lo registro di solito senza webcam perché domani credo finisca il video di essere assicurata con le acque e ho detto che volevo fare uno scout con loro quindi andiamo a fare 6-50 gemme non so neanche che UR ci sono c'è Cica e Rico e basta avere poi qualche SSR ci sono attento a rimetto magari la taglio gli R ah sono tre sono Cica U mi pare U sia l'altro 2 4 3 vabbè 9 SSR vedo un collo sì Rico e Cica lo sapevo ah ok vuoi sapere l'altro? credo sia U vabbè credo sia U tutti i temi questo è il tranquillo poi 9 SSR va bene 11 SSR non è la SSR perché è idolizzata è troppo bella quindi vediamo che esce fuori dai 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 non me l'ho solo assicurata ti prego non solo assicurata non me l'ho solo ah è 3 SSR dai dai c'è il 33% di possibilità che una sia di cano ti prego non posso fare neanche il bordo minchia lo sapevo quella che mi piace di meno ma che cazzo è possibile? non mi puoi andare a stare dai ti prego cano 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 no cano cano per favore cano no non puoi andare no me l'ho prego cazzo se potessi mettere uovo cano ma è un altro scalottico no me l'ho tenuto no me l'ho tenuto per 1 no roba che cazzo ma l'ho detto me l'ho tenuto per 1 quanti cazzo scusa faccio vabbè non cazzo 160 no 150 le ottengo per 1 facciamo 3 solo guarda magari esce qualche roba buona vabbè dai sono contento vabbè ora tipo nel senso ora non puoi come si dice anche se idolizzi un SR non è che c'è tanto da gioire perché per me le puoi idolizzare quei Siel capito e vabbè comunque sarei un sacco di Siel ma per un SR non tanti venti venti rosa quindi non lo sai sono proprio ma almeno mi capitasse non è anche un R di Kanan cioè proprio ti faccio così schifo Kanan non lo so dai Kanan ti prego ciao 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 gioco mi hai visto e non vi vedrai più cioè finalmente avevo una sfida di merda vabbè di merda 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 intanto poi ne ho altre perché per il tutorial ne ho altre eh vedi poi cerco di selezionare Siel per il bellissimo selezioni comunque se inizi la SSSR ti dà uno slot in più delle quelle skill guarda nante fancii e kawaii nai shouna no kashira chiusurr chiusurr e si avvicinare ne parla normale con le famiglie si ma certo anche le ore comunque sicuramente in due tre giorni riprende l'accento giapponese alla fine ha vissuto in giappone fino a totto tempo vabbè è stato comunque uno scouting fruttuoso anche se non ho trovato neanche una camera ciao a tutti ci becchiamo alla prossima ciao a tutti